Buongiorno e benvenuti a questa segna stampa di oggi 28 ottobre. I dati fondamentali riguardano le elezioni che si sono svolte in Umbria e qui partiamo subito dai risultati. I risultati vedono la vittoria per lenti punti percentuali della candidata governatrice del centrodestra al 57,5% rispetto al 37% che ha preso Bianconi, il grande candidato della sinistra che peraltro era più vicino a Forza Italia secondo me che alla sinistra, exploit di un partito ad essere molto pratici, guardando i numeri rispetto alle scorse europee, il partito che ha guadagnato di più rispetto alle scorse europee si chiama Fratelli d'Italia che è arrivato al 10,4% rispetto al 6,6%. Molto bene, la Lega ovviamente che è la grande vincitrice morale di queste elezioni insieme a Salvini ma ha preso il 37%, un numero pazzesco rispetto al 38% delle europee, si tratta comunque di una piccola discesa ma il punto fondamentale di Salvini è meno male che doveva essere morto all'opposizione, meno male che era finito Salvini, meno male che il cazzaro verde come lo chiamano quelli del fatto e poi ne parleremo dei pezzi del fatto, era finito. Forza Italia 5,5% è il terzo ruota del carro del centrodestra e scesa di un altro punto percentuale, qui sarà divertente vedere cosa fanno i malpancisti che vogliono andare con Renzi e io se fossi un leader di Forza Italia direi andate, accomodatevi tutti i correnzi così finalmente si rinnova questa Forza Italia con qualche faccetta un po' più presentabile, non perché ne siano impresentabili questi ma semplicemente più credibile. Il PD alla fine perde un paio di punti rispetto alle europee ma è al 22%, ricordiamoci che l'ultima volta le regionali la Catiuscia Marini l'ha vinte ma ha di 10.000 voti, quindi ha perso ma non distrutta. Chi è veramente distrutto da queste elezioni regionali si chiama Movimento 5 Stelle, passa dal 27,5% delle politiche del 2018, 27,5%, al 14,6% delle europee, al 7,4% di queste politiche. Più distrutto di così bisognerebbe avere il cazzaro giallo, cioè travaglio, per capire come sono andate le elezioni. I titoli dei giornali, Salvini trionfa, si accorge il Corriere della Sera, Quotidano Nazionale ovviamente trova un'altra chiave di lettura, è stato affossato l'accordo tra PD e Movimento 5 Stelle che nasceva in Umbria e sarebbe dovuto durare in Emilia Romagna, in Toscana e su questo ne parleremo nelle prossime ore. Il Corriere della Sera dice che c'è anche un colpo al governo da parte di questa nuova elezione in Umbria, Salvini si consola con l'Umbria. Giuro, il titolo del fatto quotidiano, il giornale dei grillini, il giornale del cazzaro giallo, come lo definirebbero loro con il loro gergo, dice, vi giuro, è il titolo di oggi del fatto. Salvini si consola con l'Umbria, ma come si consola con l'Umbria? C'è il 9% di gente che è andata a votare, corsa a votare, non si va a votare. La gente, se il cazzaro giallo non se ne accorge, cioè il portavoce Movimento 5 Stelle non se ne accorge, vuole andare a votare e quando va a votare, nonostante quello che vi siete inventati, non vota quello che pensate voi. Io vi voglio leggere, ce l'ho qua, ce l'ho qua, adesso vi voglio leggere quel genio, perché poi capite come si creano i miti, l'ora del cretino è il fondo sul fatto quotidiano fatto ieri da Travaglio, il portavoce Movimento 5 Stelle, così capite tutto quanto. L'ora del cretino, che devo dire che forse riguarda più il cretino che lo scrive che il cretino a cui lui si riferisce, il cazzaro giallo Travaglio scrive, siccome la mamma dei cretini è sempre gravida, pare che i malpancisti 5 Stelle stiano aspettando con anzi una bella sconfitta in Umbria. Per i malpancisti si intendono gli ex ministri e tanta altra gente, non fanno che rilasciare interviste dicendo che è sbagliata l'alleanza, ma è un'autocritica da parte di questi malpancisti, scrive Travaglio. Il fatto che il Movimento 5 Stelle, precipitati al 17% dalle europee e poi giù per l'alleanza con la Lega e tornati sopra il 20% col governo gialloroso non li riguarda. Cioè si compiace Travaglio ieri che i giallorosa, come li chiama lui, sono saliti al 20% dal 17%. Si è fumato qualcosa di grave. Se avesse aspettato si sarebbe reso conto che in Umbria scendevano grazie all'alleanza col PD, che tutti capiscono, tranne il cazzaro giallo che è una follia per il Movimento 5 Stelle, beh, sarebbe sceso al 7%, ma non finisce qua. Riesce a dire delle cose incredibili, accusano il fatto di essere protagonisti di un governo senza impresentabili, quando lo stesso fatto aveva considerato impresentabili molti di questi membri del governo, ma alla fine è bellissimo. Il massimo possibile, eccetera. Pare che non abbiano digerito l'alleanza civica in Umbria e non vogliono replicarla nelle altre regioni al voto, parla dei malpancisti, cosa che farebbero bene. O bella, scrive Travaglio, o bella, pensano di vincere da soli dopo aver perso in 10 anni di vita tutte le regioni? E come sperano di far rieleggere sindache forti come Raggi e Appendino senza dialogare col PD su governatori forti come Bonaccini in Emilia e Emiliano in Puglia? Il problema dei malpancisti non è la pancia, è la testa. Cioè, l'Appendino e la Raggi sono state elette da sole e l'idea che loro debbano fare l'alleanza col PD, perché se no non possono vincere, è una cosa che c'è in mente, soltanto quel cazzaro giallo. Tenetevelo, l'ora del cretino è un fondo che dovete tenervi e vi fa capire come la pensano questi giustizialisti manettari amici di Conte e che oggi voglio vedere nei prossimi giorni l'ora del cretino a chi la dedicano, se non a se stessi. Franco, che è il grande interprete della epopea di Conte, lo intervista un giorno sì, un giorno no, insomma il giornalista del Corriere della Sera che più ama Conte, dice il messaggio degli elettori è inequivocabile, le ricadute nazionali molto meno. Teniamocelo caro Conte, dice il Corriere della Sera. Il segnale comunque è di maggiore partecipazione. Ah, interessante, in un pezzo veramente confuso, cento righe, io vi dico leggetevele queste cento righe, anzi non leggetevele di Conte Franco, perché non riuscite bene a capire che cosa voglio dire, però una cosa si coglie, cioè quanto gli erode di quello che è successo in Umbria, ma gli erode in senso intellettuale, nessuno di loro ha interessi particolari, il cazzaro giallo vuol dire un'altra cosa, è il portavoce del Movimento 5 Stelle, ma Franco fa il suo mestiere giornalista, dice quella dell'Umbria è un'istantanea in cui interessi si sono frammentati e radicalizzati. Ma che vuol dire? Ma come si fa a dire che gli interessi si sono frammentati? Ha stravinto il centrodestra, se c'è un interesse che non si è frammentato è avvenuto in Umbria, due più due, quattro, hanno preso il 60% dei voti, il 57% dei voti, gli altri il 37%, madonna mia, questo vuol dire frammentati, i due sovranisti, come notano molti giornali oggi, Lega e Movimento della Meloni, fanno quasi il 50%, dire frammentati mi sembra poco, mi sembra una roba, non so, forse ha fatto tardi ieri sera, brutto il titolo, io non amo il titolo e mi arrabbio con alcuni di voi che me lo scrivono, sei stato asfaltato, è asfaltato, è un gergo volgare secondo me, io uso tante parolacce, ma la questione è asfaltato, vuol dire, non mi piace, non mi piace, figuratevi un po' voi, lo fa il giornale, la verità, asfaltata la sinistra, è un brutto gergo che mi sembra più dalle uniti a testiere che da giornali seri come sono la giornale della verità, ma quello, il principio che loro scrivono è sacrosanto, c'era una volta l'Italia rossa, è un altro per il titolo che leggo oggi sui giornali, Sallusti nota giustamente che il fattore Conte è pari a zero, cioè Conti non è servito a nulla, anzi a far perdere voti, Zingaretti è l'eredità di Renzi, beh tutto sommato questo è vero, cioè l'Umbria nasce e il partito l'ha preso da Renzi, non è che poi in sei mesi, un anno riesce a cambiare le cose, mentre Renzi che cosa dice? Avevo ragione, il patto non funziona, e fa subito il Pierino, allora agli amici di Forza Italia che arriveranno lì da Renzi, ovviamente vi ricordo che Renzi può dire tutto, il contrario di tutto, ha fatto nascere questo governo e oggi scopre che il patto non funziona, quindi si fa nascere il governo ma non si fa il patto. Il messaggero dice che neanche il pressing anti Salvini dei preti è bastato, perché l'altra componente di questa cosa Umbria è che tutti i preti, a partire da quelli di Assisi, hanno cercato di dire non votate i cattivi della destra, invece votate i buoni della sinistra che hanno gestito bene l'Umbria negli ultimi 50 anni, perché questo è il principio, non votate i cattivi della destra che almeno possiamo provare, mentre invece quelli che indagati, gestiti, una sanità bulgara, beh quella roba lì invece sì, non riusciamo a fare l'alta velocità, cosa che la Presidente Tesei è la sua fissazione in Umbria, quelli vanno bene per i sacerdoti, mentre non vanno bene per i nostri sacerdoti quelli di destra, perché sono cattivi, complimenti ai sacerdoti che non solo non fanno il loro mestiere, ma quando cercano di fare un altro mestiere che non è loro, manco lo sanno fare bene. L'altra cosa che mi diverte è questo scandaletto su Conte al Financial Times, tirato fuori dal Financial Times, la cosa è molto semplice, ve la spiego io, prima di diventare Presidente del Consiglio, mentre si parlava di Conte possibile Ministro, comunque a maggio del 2018, Conte d'Avvocato fa una consulenza per un fondo che partecipa ad una società, per una società partecipata da un fondo, che voleva comprare una società italiana e la consulenza di Conte è la seguente, quando potrebbe su questa società arrivare l'azione d'oro, il golden power del governo e quindi impedire ad un cliente di comprare questa società perché il governo ci si mette di mezzo e si chiede una consulenza a Conte che deve dire come si sarebbero comportati gli azionisti, insomma Conte dà una consulenza a un fondo di questo Raffaele Mincione finanziere e bla 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 che ha alcuni interessi nel Vaticano, alcuni interessi con la Carigia, insomma un finanziere noto in Italia e non solo. Da questa consulenza Conte era avvocato dalla consulenza. Il fondo poi viene indagato da chi? Dal Vaticano perché dice che lì nel fondo c'erano strani movimenti dei preti, vabbè viene indagato, ma cosa succede? Che si nota che quella questione della golden power poi viene affrontata dal consiglio dei ministri quando Conte diventa presidente del consiglio, ma Conte si astiene ed esce perché ho detto ho dato un parere nel passato su questa cosa quindi oggi non posso votare in consiglio dei ministri, un po' come fece Laboschi sulla questione della popolare Etruria, un po' come fece Berlusconi quando si parlava di Mediaset. Allora io mi chiedo ma se fosse stato appunto Laboschi o se fosse stato Mediaset, i grillini che cazzo avrebbero detto di questa roba che è uscita su Conte e poi perché i giornali italiani ne fanno una breve di 20 righe mentre rompono le balle all'ex ministro dell'istruzione Bossetti, ministro dell'istruzione a cui gli stanno facendo paginate intero perché deve giustificare 133 voli che lui ha fatto e deve giustificare perché dice che quei voli nei 14 mesi di governo non tutti erano stati autorizzati dal ministero dell'istruzione e sapete quanto ha speso? 25 mila euro per quei voli lo Stato, cioè un ministro che si muove deve giustificare i suoi voli e fanno paginate in cui c'è un non detto, questo ministro volava per cazzi suoi, mentre invece il Presidente del Consiglio che si astiene sulla sua consulenza e grillini zitti e muti, voglio dire molto simpatici quando sono giustizialisti a fasi alterne. Al Bagdadi è stato preso, una cosa rocambolesca, meno male come scrive Giovanni Sallusti e anche Gervasoni sul mio sito che Trump era una pippa e non riusciva a fare nulla, almeno questo l'ha scovato, l'ha ammazzato attraverso un blitz pazzesco, 8 aerei, 8 elicotteri, ognuno di loro con 22 marine specializzati, cani, l'unico ferito pare che sia stato un cane di questa operazione, ucciso, insomma c'è di tutto, se volete sbizzarrirvi, siccome avevo fatto veramente tardi con questo minutaggio, vi segnalo un appassionato come sono io di Dylan Dog, oggi 8 tavole, 8 pagine sulla Repubblica, non rimanete così bene, però insomma è sempre Dylan Dog, ciao! Questa sera, scusatemi, Quarta Repubblica, scherziamo con Salvini e il mio libro, le tasse invisibili, un sacco di robe di cui parlare, ciao!